Grazie. Parto dal ricordo di Roberto, cui funerali saranno venerdì mattina a Varese, quindi ovviamente per me e per tutta la Lega cambia l'agenda e la scaletta delle priorità e quindi tutta la comunità leghista sarà fisicamente o idealmente venerdì mattina con parenti e amici a Varese. Ovviamente abbiamo preparato una giornata diversa che era di soddisfazione per la consapevolezza in un momento difficile e di difficoltà economica per milioni di italiani, però di riuscire a fare una manovra non miracolosa o miracolistica, che però porta soldi in più in milioni di case degli italiani, ovviamente con la brutta notizia di questa mattina e con Umberto Bossi ancora ricoverato a Varese. Diciamo che la gioia lascia spazio ad altro tipo di riflessioni. Giorgia ha già detto tanto, c'è anche, aggiungo, è rinnovato il bonus Maroni in manovra, nel senso che oltre ad aver fermato la legge Fornero, che era un nostro impegno non politico, sociale, morale, archiviandola direttamente, però c'è anche la possibilità per chi raggiungesse i requisiti dei 41 anni di contributi ma volesse continuare a lavorare, e questo nell'ottica del merito, del premio della capabilità, della buona volontà, chi andrà avanti a lavorare, pur avendo raggiunto i requisiti pensionistici, avrà un premio del 10% sullo stipendio.